Gioie e dolori, grandi imprese e cadute clamorose. La storia recente del Frosinone nei play-off non conosce mezze misure. Da una parte l'estasi e l'esaltazione del 2014, dall'altra il dramma e gli incubi del 2017. Il colpo di testa di Alessandro Frara nella finalissima contro il Lecce rappresenta ancora oggi il momento più esaltante, l'attimo più bello, l'emozione pura e violenta di un campionato vinto e di una promozione conquistata a quattro minuti da calci di rigore. Di contro, la punizione di Gaetano Letizia in quel maledetto Frosinone Carpi è invece la pagina più nera, il vero dramma sportivo, l'incubo peggiore che si trasforma in realtà al triplice fischio finale. I play-off sono questi, quasi una lotteria che premia la squadra più audace e valorosa ma spesso anche quella che non ha i favori del pronostico e sembra già spacciata. Nei play-off si riparte da zero, ci vogliono testa, gambe e sangue freddo. Caratteristiche che scorrendo il nastro della storia recente giallazzurra, il Frosinone di Roberto Stellone nel maggio 2014 riuscì a ritrovare, nonostante un campionato perso all'ultima giornata, sul campo del Perugia ed una stagione giocata tra mille tensioni. Storia per certi versi simile a quella attuale, come ha sottolineato il presidente Maurizio Stirpe. Buona parte dei giocatori di questa rosa c'erano anche qualche anno fa, quando perdemmo all'ultima giornata a Perugia dopo aver comandato tutta la stagione e poi abbiamo vinto i play-off. Non esiste la memoria nel calcio, sia per quanto riguarda gli episodi positivi sia per quelli negativi, ma la società, i dirigenti e i testerati hanno il dovere di provarci fino alla fine. Questo non è il momento di abbattersi, ma di tirare fuori le nostre doti migliori. Una sconfitta al photo finish può però anche svuotarti mentalmente e fisicamente. È quanto accaduto soltanto 12 mesi fa al frosinone di Pasquale Marino, in lotta per la promozione diretta fino all'ultima giornata della regular season, ma poi clamorosamente eliminato in semifinale da una squadra, il Carpi, che aveva chiuso la stagione con 12 punti di ritardo rispetto ai giallazzurri. Gioia e dolori, i play-off sono così, prendere o lasciare.